Io ho scelto G.P. G.P. è lo sudonimo di Gianni Pacinotti. G.P. è un fumista, regista e scrittore. Lui è nato in Pisa, in Italia, nel 1962. G.P. ha ricevuto riconoscimenti internazionali come il premio Gioschini. E' quello per il miglior album al festival di Anguleme. I fumetti di G.P. ha ricevuto il prestigioso premio al miglior album al festival internazionale di Anguleme. Prima di questo premio hanno dato due fumetiste, Hugo Pratt e Vittorio Giardino. Il suo romanzo, Appunti per una storia di guerra, è stato pubblicato da Coconimo Press. Appunti per una storia di guerra è stato pubblicato in Francia e gli Stati Uniti da First Second Books o Prima Seconda Libri. Appunti per una storia di guerra ha vinto un premio per migliore copione best script riguardo al libro, Appunti per una storia di guerra. G.P. ha detto Non volevo che il lettore pensasse questa guerra accade altrove facendo da me la mia intenzione era quella quella di far quella di far riflettere le possibilità di una guerra arrivava improvvisamente improvvisamente a casa loro. Questa immagine è dal fumetto La terra dei figli Questa è una storia di post-apocalittica di due fratelli e il loro padre I fratelli I fratelli sono ossessionati ossessionati ossessed dal diario del dal diario del padre Questo questo fumetto non usa i colori nel fumetto Questa immagine è che si Grazie a tutti.